David Wilgoby è un fortunato vincitore che, con un biglietto vincente, ha sbancato la lotteria in Virginia, Stati Uniti d'America. L'uomo in questione, infatti, pensate che è riuscito per comprare del latte, ha cioccolato per i figli, ha comprato un latte e vinci e ha trovato un premio da un milione di dollari. Quindi, un colpaccio in piena regola, una vittoria meravigliosa per l'uomo che ottiene questo lauto dono, questa lauta ricompensa. Un 2021 che si chiude molto bene per lui che vive a North Chesterfield, l'uomo si è caricato nel Emporio più vicino per comprare un po' di latte e al cioccolato per il figlio e si è ritrovato con un bel biglietto vincente tra le mani da un milione. Bene, complimenti, il video termina qua, complimenti a David, iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti e al prossimo video.